Noi altri agricoltori avevamo una grossa responsabilità, ma si stava a lavorare con la natura. Che tristezza! E gli ha ragione che il vecchio contadino tutto sconso è assentato su un canton. Da quando il concime chimico si sta inventando, il nostro loame proprio merda si è diventato. La natura ti aiuta a stare liberi nei campi, a vedere i frutti che crescono, a vedere la natura come ci boccia. Le relazioni con le persone attraverso il cibo, attraverso il lavoro, la produzione del cibo e anche il consumo del cibo, perché poi c'è una intima relazione tra chi lo consuma e chi lo produce, perché esprimono entrambi un'ecigenza vitale. Da due punti di vista diversi, se da questa esigenza viene soddisfatta da entrambi, noi abbiamo trovato la soluzione per vivere meglio.